L'opportunità di imparare nuove lingue e conoscere nuove culture e se in più sono lingue e culture che vengono da paesi totalmente diversi dal nostro, è una doppia opportunità. C'è per questo un corso di arabo a Caltanissetta, la Casa delle Culture del Volontariato, ideato e realizzato dall'Associazione Iside. 30 ore di incontri ogni giovedì, da due ore ciascuno e i corsisti sono già entusiasti di aver iniziato a intraprendere questo percorso. Ora è rivolto un po' a tutta la popolazione, italiani o anche stranieri, in questo momento abbiamo solamente italiani, è un corso che inizia proprio dalla base, quindi inizieremo dall'alfabeto arabo, ma daremo anche degli accenni di cultura araba e anche araba islamica. Già le prime domande sono arrivate da parte dei corsisti per quanto riguarda la cultura, che è un po' quella che si vede in giro per la città. Per quanto riguarda invece proprio l'alfabeto, i primi casi sono stati dove dovevo mettere il puntino, sotto o sopra? Me lo ricorderò oppure no? Imparare una nuova lingua consente anche di incontrare nuove culture e conoscerle in modo più approfondito, avere sicuramente più strumenti in una città come Caltanissetta che assume una fisionomia sempre più multiculturale. L'approccio a questa lingua è stata una cosa, diciamo, da me pensata da tempo, cioè volevo fare questo corso già da parecchio tempo, visto la mia attività lavorativa che mi porta ad avere contatti con il mondo islamico, arabo, e quindi non vedevo l'ora di partecipare a questo corso per far sì di ampliare le conoscenze proprio della lingua e devo dire che mi sta affascinando tantissimo anche perché sto scoprendo un mondo nuovo che mi porta ad andare avanti verso questa direzione. Allora, io sono rimasta un po' così, il fatto di non esserci vocali, di non esserci accendi, apostrofi, di scrivere al contrario, questa insomma tutta una novità, non lo sapevo onestamente. Tornare tra i banchi è un po' un tuffo nel passato, comunque è un modo questo per stare un po' più vicino ai nostri alunni, visto che abbiamo diverse domattinie. Per chi vorrà c'è ancora la possibilità di iscriversi all'indirizzo mail associazione iside 2017 chiocciolagmail.com Grazie. Grazie a tutti.